Caro Dottor Frausini, io la ringrazio innanzitutto per la sua disponibilità a fare questa intervista e la prima domanda che le chiedo è, secondo lei, che malattia è la Covid-19? La malattia Covid-19 è una malattia che è sostenuta da un virus altamente contagioso fin dalla fase presintomatica. È un virus che possiamo definire giovane, forse meglio adolescente e come tutti gli adolescenti ha delle reazioni imprevedibili. Possiamo però dire che è una patologia che si sviluppa fondamentalmente in due fasi. La prima fase è la cosiddetta virale, in cui le manifestazioni sono molto simili a quella di un'influenza tradizionale con una sindrome di raffreddamento, quindi con mialgie, febbre, tosse, raffreddore. Talora può essere anche paucisintomatica e in alcuni casi passare del tutto inosservata. Dopo sette giorni però si arriva allo snodo, a un punto cruciale della malattia perché il sistema immunitario in alcuni individui, fortunatamente pochi rispetto a tutti quelli che vengono in qualche modo contagiati, può comportarsi in maniera abnorme, iperimmune, la definiamo, è una maniera esagerata e al posto di aiutare l'organismo nel processo di guarigione va a colpire non solo i polmoni che sono il bersaglio preferito, ma anche il cuore, l'intestino, i reni e i vasi. Quanto ai polmoni si possono sviluppare quelle che noi conosciamo come le complicanze più temibili sono le polmonite interstiziali che spesso sono bilaterali, ground class, focolai multipli che possono devastare i polmoni stessi fino a portare nei casi più gravi ad un'insufficienza respiratoria di grado avanzato che necessita, ahimè purtroppo, della reanimazione. È fondamentale tenere presente questo andamento temporale in due fasi della malattia per poter collocare quei pochi farmaci che noi abbiamo a disposizione, quasi sempre utilizzabili off-label, nel momento giusto della malattia stessa. Ecco, ma proprio in questo contesto, qual è il ruolo dell'internista nella gestione del Covid-19? L'internista, a mio parere, ha un ruolo di straordinaria importanza nella gestione di questa malattia e non ho nessun timore di essere smentito quando sostengo che dopo quattro decenni di attività quotidiana al letto del malato, questa Covid-19 è la patologia più internistica che io abbia mai incontrato e vorrei spiegarmi per far capire che questa non è una mia affermazione di parte per, diciamo, onorare gli internisti. Intorno alla gestione del paziente Covid sono indispensabili, e voglio sottolineare la parola indispensabili, tutta una serie di figure e competenze specialistiche che vanno dall'epidemiologo, l'infettivologo, il pneumologo, il cardiologo, l'ematologo, il nefrologo, il rianimatore. E certamente ho dimenticato qualcuno. Ma secondo me è ancora più indispensabile la figura di noi internisti perché, messe insieme queste indispensabili competenze, con dei pareri degli specialisti che allora possono non essere del tutto concordi e preso atto che non possono esistere delle linee guida per una patologia che è insorta da pochi mesi, l'internista prende la decisione su come trattare la Covid-19 e non tanto la malattia, ma quel singolo paziente con la malattia Covid-19. Internista che con le sue competenze plurispecialistiche riesce, come nessun altro, a sartorializzare la terapia di questo paziente. Secondo lei tornerà tutto come prima in sanità una volta passata questa fase di emergenza? Questa è una domanda semplice, secondo me, perché credo fermamente di no. Non tornerà tutto come prima. Dico questo perché negli ultimi tre mesi, in cui ho vissuto sul campo questa battaglia, ho visto più cambiamenti in sanità rispetto ai precedenti quattro decenni in cui ho fatto il medico. Sono stati moltiplicati letti di rianimazione. Pensi che nell'azienda in cui lavoro, Marche Nord, si è passati da 10 a 40 posti letto in rianimazione. Si sono creati reparti cosiddetti Covid, si sono creati dei percorsi puliti, dei percorsi sporchi, quelle che chiamiamo le zone grigie. E tutta l'organizzazione ospedaliera è stata stravolta. Se tutti noi cittadini comunque ci comporteremo come c'è stato giustamente suggerito da chi ci governa, l'epidemia verrà certamente controllata. Ma noi sanitari dovremo guardare oltre e organizzarci, lo stiamo facendo, per poter affrontare un eventuale rigurgito di questo virus che non sappiamo come e quando potrà avvenire. Però dovremo essere certamente pronti. Così come dobbiamo essere pronti a garantire di nuovo una sanità Covid free per tutte quelle patologie mediche e chirurgiche che durante l'epidemia non stanno avendo, non hanno potuto avere delle risposte adeguate. Vorrei concludere comunque con un appello. Arriviamo presto al vaccino. Tutti lo aspettiamo e non vediamo l'ora di poterla avere a disposizione. Ma mettiamoci anche in condizione di poter disporre su larga scala del siero iperimmune derivato dai pazienti guariti che rappresenta, non secondo me ma secondo tutti, un'incredibile arma terapeutica nei confronti di questa enorme calamità che ci è piovuta addosso. Grazie Dottor Frosini, le ringrazio veramente per la sua disponibilità, per le sue risposte. Le auguro una buona continuazione, un buon lavoro e spero di risentirci presto. Grazie a lei e a tutti gli amici del Fadoio e a tutti gli amici del Fadoio, le auguro un buon lavoro. Grazie a tutti gli amici del Fadoio, le auguro un buon lavoro.